Luoco straordinario, vero patrimonio dell'umanità, forse il primo patrimonio dell'umanità perché avere una città riprodotta esattamente, riscoprirla anzi, come qui a Pompei, è unica al mondo ed è anche un progetto proiettato nel futuro, sono veramente stato molto contento solo di vedere Pompei ma di vedere anche idee come lo Smart Archaeological Park, come il lavoro di digitalizzazione che viene fatto, mi sembra che l'Equipe stia lavorando molto bene, come italiano e come memoria di governo sono veramente molto orgoglioso di quello che ho visto e di quello che sta facendo.